5, 4, 3, 2, 1 Via! Un chilometro, segui le tracce, pericolo 3 Pericolo 3, continua dritto sulle tracce, pericolo 3 2 chilometri, preparati per svoltare a destra, pericolo 1 Continua dritto sulle tracce, un chilometro, pericolo 3 Pericolo 3 2 chilometri, pericolo 1 2 chilometri, pericolo 1 Preparati per svoltare a sinistra Continua dritto sulle tracce, 2 chilometri, preparati per svoltare a destra, pericolo 1 Dritto sulle tracce, preparati per svoltare a sinistra Continua dritto sulle tracce, pericolo 2 Pericolo 2 1 chilometro, pericolo 3 Pericolo 3 Continua su cap 161 2 chilometri, continua dritto sulle tracce, pericolo 1 1 chilometro, pericolo 3 Continua dritto sulle tracce, pericolo 3 Pericolo 3 Pericolo 3 Pericolo 3 Cap 227 2 chilometri, tieni la sinistra Continua su cap 209 2 chilometri, tieni la sinistra Continua su cap 209 Segui le tracce, 1 chilometro, preparati per svoltare a sinistra, pericolo 1 Tieni la destra, cap 106 Continua dritto sulle tracce 2 chilometri, pericolo 3 Pericolo 3 Occhio Continua su cap 142 Continua su cap 142 Dritto sulle tracce, pericolo 3 Continua dritto sulle tracce, pericolo 3 1 chilometro, preparati per svoltare a destra Dritto sulle tracce, pericolo 3 Pericolo 2 1 chilometro, preparati per svoltare a sinistra, pericolo 2 Resta sulle tracce, pericolo 2 Continua dritto sulle tracce, pericolo 2 1 chilometro, preparati per svoltare a sinistra, pericolo 3 Preparati per svoltare a sinistra, pericolo 3 Segui le tracce, pericolo 3 Ce l'abbiamo vada Grazie.